Nintendo Switch ti permette di giocare dove, quando e con chi vuoi. La configurazione iniziale richiede solo pochi minuti. Per prima cosa, scegli una lingua e un'area di residenza. Leggi il documento, informazioni importanti. Quindi, configura le impostazioni di connessione. Una volta configurata la connessione a Internet, potrebbe apparire una richiesta di aggiornamento della console. Ora, seleziona il fuso orario. Segui le istruzioni a schermo per collegare la console alla TV. Se preferisci, potrai farlo più tardi. Prima di inserire la console nella base, ti verrà chiesto di scollegare i Joy-Con. Ora le istruzioni appariranno sullo schermo della TV. Quando aggiungi il tuo utente, puoi utilizzare una delle tante icone dei personaggi. Oppure, puoi creare il tuo Mi. Puoi modificare queste e altre opzioni, come il filtro Famiglia, in qualsiasi momento. La tua console Nintendo Switch è pronta all'uso. Per aprire il menu Home, premi il pulsante Home. Dove, quando e con chi vuoi. Nintendo Switch